Se stai cercando una villetta d'angolo con un bel giardino privato, due posti auto di proprietà più altri due posti auto nella corte, sala con angolo cottura, due bagni, due camere da letto, portico, a pochi pochissimi chilometri da Feenza, beh rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questa villetta in vendita. Siamo in via della battaglia tra via delle vigne e la via Emilia e qui si trova questa villetta d'angolo di recente costruzione con il suo bel portico e giardino privato, due posti auto oltre al cancello carabile dentro al giardino e con al piano terra questa zona giorno con soggiorno, cucina a vista con angolo cottura, bagno di servizio ma completo con attacco lavatrice e finestrato al piano terra. Al primo piano troviamo le due camere da letto e direttamente le due camere da letto, il secondo bagno anch'esso finestrato con il box doccia. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagno molto volentieri. Ci vediamo in visita! Ciao! 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 Ciao!